Hai finito il video? No, non lo faccio il video Ah, bene, bene Ma noi siamo arrivati a due parti, noi ci rilassiamo Ah, dai, dai, ma qua, più o meno tirano tutti Hai fatto col polletto, eh? No, noi abbiamo tirato con... Eh, ma... Senta che noi No, non lo faccio il video 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.